Fira compie 30 anni dalla sua legge istitutiva nel 1987, un'occasione veramente importante con un ospite d'onore che è il professor Carlo Cortarelli. Abbiamo voluto molto sottolineare questa occasione, questa celebrazione con quest'ospite d'onore. Una fase molto importante quella di Fira negli ultimi tre anni, che ha voluto in qualche maniera ricominciare la sua funzione reale, la sua funzione effettiva di finanziaria regionale, proprio ispirandoci a quei criteri che sono poi leggibili e dettati dalla legge istitutiva del 1987. Sì, i precati capitali sono l'evasione fiscale, la corruzione, la burocrazia, la entezza della giustizia, soprattutto io mi occupo di giustizia civile, il crollo demografico, il divario tra il sud e il resto del paese e poi la difficoltà, quello che io chiamo la difficoltà che abbiamo avuto a convivere con l'euro. Ho preso questi, ce ne sono anche di più di altre cose, avevo parlato nei libri precedenti per cui devo rimanere con il numero magico di 7, quindi mi sono limitato a questi. Ci sono pochi segni di miglioramento nel graduatorio internazionale, siamo internazionali e perlomeno europei, siamo sempre purtroppo tra i primi posti come evasione fiscale, sull'evasione dell'IVA nell'ultima rilevazione, nelle ultime stime disponibili, quelle del 2016, eravamo al terzo posto come livello di evasione. Una cosa che sarebbe molto importante fare sarebbe investire nelle scuole del sud, perché il capitale umano è da lì che può venire la crescita, togliere i ragazzi dalle strade, fare in modo che tutti abbiano una buona educazione nel sud e in tutto il resto del paese naturalmente. Io ho cercato di calcolare i sette peccati capitali indicati dal professor Cottarelli anche per quanto riguarda la nostra regione e devo dire che in alcune circostanze emergono situazioni un po' amplificate. Vorrei fare qualche esempio, il primo riguarda l'invecchiamento. Ho una regione nostra che invecchia, che ha un tasso di fertilità, la sesta regione italiana dell'1,24 e ha un tasso di natalità che è un saldo naturale che è negativo, quindi ci sono 420.000 persone in meno che poi in parte vengono coperti dal saldo migratorio.